Siamo con Alessandro Gionta, portiere del Lidl Pirata Sperlonga. Alessandro, prima stagione per la società in Serie C2, non per te che hai già insomma giocato in questa categoria con la maia, ricordiamolo dello Sporting Terracina, come hai ritrovato la categoria e ormai giunti quasi al termine praticamente del girone di andata, dove può arrivare secondo te la tua squadra? Buonasera innanzitutto, non ho trovato enormi cambiamenti nella categoria, c'è un grande equilibrio per le squadre che vogliono aggiudicarsi post playoff, sarà un campionato difficile perché comunque noi siamo una matricola e il nostro obiettivo è quello di far bene, comunque di creare delle basi per l'anno prossimo e per gli anni futuri, abbiamo dei valori, abbiamo delle qualità e quindi vogliamo vogliamo far bene quindi puntiamo ad arrivare dai primi posti a fare un bel campionato divertendoci. Senti, dopo tanti anni in un altro sport, gli appassionati fondani lo sanno benissimo, insomma un ex veterano della palla a mano, la tua carriera nel calcio a cinque, da quando iniziata praticamente circa tre, quattro anni fa, ha sempre vissuto di alti e bassi come categoria, ma non come rendimento. Ti faccio una domanda, quanto è difficile e come riesci a calarti anno dopo anno in una categoria diversa, che sia più alta o più bassa? È una questione di impegno penso, se sei disposto a giocare, allenarti con una serie B, con dei professionisti e sai che devi allenarti cinque volte a settimana, a volte anche due volte al giorno, quindi se sei disposto a metterci dall'impegno puoi ottenere dei bei risultati e delle belle soddisfazioni. Stesso discorso comunque per una categoria minore e l'importante è che comunque si dimostri una certa serietà, che si dimostri, non dico professionali, non dico essere dei professionisti, ma almeno di essere professionali. In questo frangente la squadra reduce insomma da nove punti nelle ultime quattro partite, come o meglio dove pensi che possa arrivare alla luce insomma di un andamento anche in questo caso potremmo dire altalenante, almeno fino a questo momento? Sì, ripeto, la Sonastro è una società nuova, quest'anno è una squadra nuova e abbiamo bisogno di allenarci tanto, di giocare tanto per trovare diciamo per trovare un nostro equilibrio perché abbiamo abbiamo tanti valori ed anche tante incertezze, quindi dobbiamo nei momenti più difficili dobbiamo stringerci, dobbiamo essere uniti e bisogna uscirne insieme come collettivo. Qual è l'obiettivo che insomma ti piacerebbe raggiungere da qui al termine della stagione? Sicuramente non dico vincere il campionato perché penso ci voglia un' esperienza diversa, ci vogliono giocatori di esperienza e anche la stessa squadra deve fare esperienza, però io credo che una qualificazione al playoff sia davvero un grande risultato e aspettiamo comunque dicembre, aspettiamo comunque le gennaio-febbraio prima di tirare le somme ma penso sia un obiettivo alla nostra portata. Grazie mille Alessandro e in bocca al lupo allora per il girone di ritorno. Crevi il lupo grazie a voi. Siamo con Elvio Passannante, uno dei giocatori potremmo dire veterani del Lidl Pirata Sperlonga, fuori ormai da diversi mesi per infortunio ma nei prossimi due mesi diciamo così forse potresti rientrare in campo, almeno questo è l'augurio giusto? Speriamo, diciamo che sto lavorando per cercare di aiutare la squadra e prima o poi spero per gennaio massimo febbraio di riuscire a dare di nuovo al 100% come l'anno scorso. Sto soffrendo parecchio però ci sta, ci sta, non possiamo fare niente. Conoscendo il tuo temperamento certamente starai facendo molta fatica a stare fuori però all'attaccamento a questi colori l'hai sempre dimostrato e ti chiedo da osservatore esterno come stai vedendo la tua squadra e come ho già chiesto aggiunta anche a te domando dove potete arrivare? Secondo me questa squadra c'ha le potenzialità per arrivare almeno ai playoff perché è un gruppo nuovo, quasi tutti nuovi però sono grandi giocatori secondo me è un bel gruppo e con un pochino diciamo tra virgolette di cervello in più potrebbero arrivare molto lontano. L'importante è sempre fare gruppo allenarsi con serietà e professionalità perché comunque sì è una C2 però ci vuole anche quello diciamo. Certamente leggendo la classifica del girone A nulla vi è precluso come hai giustamente ribadito tu pochi istanti fa e è ovvio che però l'inesperienza come accennava anche prima Giunti in questa categoria in qualche passaggio in qualche partita ha giocato un brutto scherzo o no? Sicuramente più che in esperienza però diciamo c'è stato anche ripeto il fatto del essendo nuovi quindi magari sono alla fine sono poche partite che abbiamo fatto insieme quindi l'importante è essere coesi tra di noi e amalgamare un tipo di gioco che secondo me girone di ritorno saremo pronti per per fare quello che dobbiamo fare perché secondo me ripeto che per me i playoff con questa squadra qua ci stanno tutti. L'anno scorso ormai possiamo dire così perché volgiamo al termine del 2018 è stato l'anno del Little Pirata Sperlonga dunque in base alle due premesse anche il 2019 può esserlo? Sicuramente ripeto il primo anno di C2 per la società e hanno fatto un gran lavoro l'anno scorso infatti colgo l'occasione per complimentarmi con loro e penso che quest'anno sarà la stessa cosa massima calma il primo anno quindi noi l'obiettivo nostro sicuramente inizialmente salvarci poi quello che di più è tutto di guadagnato quindi stiamo facendo bene ci stanno magari dei cali ma ci possono stare penso in tutte le squadre quindi penso che tranquillamente per me io ribadisco che possiamo arrivare tranquillamente ai playoff. Bene allora incrociamo le dita e in bocca al lupo. Crepi. Siamo con Giovanni Di Trocchio laterale del Little Pirata Sperlonga ormai da sei anni nel mondo del futsal quindi anche tu Giovanni ne hai viste tante tra Serie D e Serie C2 come ti sembra questo campionato anche paragonandolo un po' alle stagioni precedenti. Buonasera a tutti il campionato è un campionato abbastanza diciamo rispetto agli altri anni duro noi è una squadra che siamo nuovi però c'è parecchio parecchie persone che hanno tanta qualità e dobbiamo dobbiamo vedere partita o partita solo uniti possiamo fare un bel campionato perché sopra le prime della classifica sono un gruppo che già da anni sono lì attrezzate per fare questo campionato quindi hanno qualcosa in più però noi stando uniti sia fuori che dentro al campo possiamo dire anche la nostra Giustamente hai chiamato in causa le prime della classe che ricordiamo lo sono lo United, Bomezzi e l'Heracles che hanno giocatori assoluti di caratura molto importante soprattutto per la Serie C2 però ecco dietro sembra che la caccia sia più che aperta quindi anche il Little Pirata può dire la sua? Come ho detto prima noi non dobbiamo pensare alla classifica ma dobbiamo pensare partita o partita perché la squadra è nuova quindi quando c'è una squadra nuova dobbiamo compattarci quindi stando sempre uniti sia fuori che dentro al campo possiamo toglierci parecchie soddisfazioni poi quello che verrà è tutto di più le prime sono attrezzate per vincere però noi dobbiamo fare il nostro siamo uniti e vedremo che può uscire un bel campionato e possiamo toglierci delle soddisfazioni e soprattutto possiamo divertirci. Parlando sia con te ma anche in precedenza con i tuoi compagni viene fuori un po' questo obiettivo diciamo così dei playoff in ottica terzo posto avete affrontato Buena Onda, Eagles Aprilia, ne cito alcune di avversari anche la Virtus Fai di stessa che avete battuto pochissime settimane fa a fondi qual è la squadra secondo te da temere maggiormente in ottica appunto terzo posto? Ma diciamo che il terzo posto stiamo come livello è quasi tutto uguale non ho visto tanta differenza a parte le prime due che stanno facendo stanno correndo parecchio le altre siamo tutte su stesso piano anche se loro hanno qualcosa in più che forse sono qualche anno che già sono compattati però noi nonostante il primo anno stiamo dimostrando che possiamo stare lì e ho detto che stando uniti possiamo dare qualcosa in più e dimostrare anche a loro che ci siamo. Bene dunque gruppo compattezza e piccoli passi giusto? Esatto esatto solo uniti possiamo fare divertirci e fare un bel campionato. Grazie Giovanni prego prego buonasera. Siamo con Enzo Marrocco altro portiere del Little Pirata che compone il reparto tra gli altri anche insieme ad Alessandro Gionta che abbiamo ascoltato prima grandissimo portiere per questa categoria ti chiedo tu che sei nuovo di questo sport essendo un ragazzo del 97 al primo anno di calcio a 5 provieni dal calcio a 11 insomma come ti sei ambientato e cosa stai rubando da Alessandro Gionta? Allora innanzitutto buonasera sì come già hai detto tu diciamo per me questo è il primo anno è tutta una nuova comunque esperienza e sì sono affiancato comunque da Alessandro Gionta che per me è uno dei portieri più forti che ho conosciuto in questo campo e ecco e proverò a rubare il tutto il più possibile che ci sta da imparare e poi sono affiancato comunque da compagni di squadra che mi sono trovato dall'inizio già subito bene lo spogliatoio è diventato una seconda famiglia e la società idem e per il momento fila tutto liscio io cercherò di arrivare il 100% e chi sa in un futuro cercherò anche il mio spazio e poi sarà tutto da vedere. Sì sappiamo che hai già esordito in Coppa Lazio di Serie C2 con l'Ardea quindi una squadra anche molto complicata da affrontare perché sappiamo essere insomma una delle favorite di un altro girone non il vostro ma comunque attrezzatissima per il salto di categoria. Ti faccio una domanda proprio sul livello della di questa categoria che tu naturalmente non conoscevi ma che stai adesso insomma apprendendo no? Qual è secondo te il livello della Serie C2 rispetto anche alle tue esperienze nel calcio a 11? Alto, basso, medio? Dici tu? Per me è un livello medio ci sono delle squadre un po' più più deboli ma anche quelle un po' più forti ma il calcio alla fine è anche questo comunque non è incontrare diciamo tutti i livelli di squadra e se ne sono viste già delle belle se ne vedranno tante altre e poi il campionato comunque è tutto da scrivere e noi con la squadra daremo il 100% e vedremo che risultato uscirà. Senti invece dal punto di vista tecnico per un portiere questa è una cosa importante quali sono le differenze come tecnica di parata che hai riscontrato che stai riscontrando ricordiamo che hai a disposizione un ottimo preparatore dei portieri come Giuseppe Pannozzo che in passato ha allenato anche serie a due femminile quindi insomma ha un pedigree di tutto rispetto. Assolutamente il mister dei portieri è veramente è veramente forte uno dei migliori comunque in questo campo da quello che ho sentito e stiamo lavorando dalla A alla Z perché io venendo dal calcio a undici mi sono accorto che è tutto un altro tutto un altro sport proprio però ecco io ho tanta voglia di imparare l'ho presa come una nuova esperienza personale e lui mi sta dando carta bianca e mi sta forgiando diciamo dall'inizio per questa nuova avventura che affronterò negli anni Giuseppe Pannozzo famoso per l'utilizzo tra gli altri anche delle palline da tennis giusto? Assolutamente. Mi confermi questa diceria? Un incubo un incubo però ha comunque i suoi risultati perché assolutamente assolutamente grazie mille Enzo. Arrivederci. Siamo con Marco Russo dunque prosegue la carrellata dei portieri del Lidl Pirata Sperlonga. Marco la prima domanda è d'obbligo dopo tre anni ritrovi questa categoria? L'avevi già vinta nel 2015-2016 proprio con la maglia della Visfondi con cui tra l'altro avanti anche esperienze in Serie C1 quali sono le differenze tra questo campionato e quello di tre anni fa? Buonasera innanzitutto e differenze sostanziali sono molte che ho notato da le poche presenze che ho fatto quest'anno sono state maggiori differenze sul piano di squadre meno organizzate quest'anno. Tre anni fa ricordo che fondamentalmente la lotta con il Minturno è stata una lotta fino all'ultima giornata e è stata tiratissima per tutto il campionato. Quest'anno oltre le tre che sono in cima il resto delle compagini a mio parere sono molto più abbordabili rispetto a tre anni fa che comunque anche sulla metà classifica tre anni fa comunque incontravi formazioni ben disposte in campo su tutti i punti di vista. Sono certo che comunque con la formazione che abbiamo quest'anno comunque potremmo puntare a ruoli importanti per questo campionato e arrivare dove ci spetta. Quindi insomma nonostante il livello del campionato secondo te più basso rispetto a quello di tre anni fa c'è ovviamente la possibilità per una compagine come la vostra di recitare un ruolo importante abbiamo detto insieme prima con i tuoi compagni andamento finora un po' altalenante ma ci sono tutte le potenzialità e i presupposti per fare molto meglio nel girone di ritorno. Sì sì assolutamente. Il primo girone di andata diciamo che nelle prime partite c'è stato più un diciamo abbiamo dovuto più capirci perché comunque molti giocatori erano nuovi parecchi venivano da altre società e comunque c'era bisogno di capirsi amalgamare bene la squadra. Adesso comunque ci capiamo sappiamo giocare bene insieme il gruppo è molto più unito ci sono stati dei errori all'andata però sono stati errori individuali comunque si può sempre rimediare ma andando avanti comunque il gruppo si sente sempre più unito e sono sicuro che potremmo fare sempre meglio del girone di andata. Senti tu sei una new entry del Pirata quest'anno quindi ti chiedo anche insomma come ti trovi con il gruppo anche se qualcosa ci è già detto come ti si è ambientato a come sei stato accorto insomma se ti trovi bene in questa società. Il gruppo mi sono trovato subito benissimo anche perché la maggior parte li conoscevo anche se non ho giocato insieme altri anni comunque la maggior parte li conoscevo e quindi siamo tutti amici alla fine siamo tutti dello stesso paese ci conosciamo tutti e ci siamo subito sentiti una famiglia diciamo e ho sentito subito l'effetto famiglia quando sono entrato in questa società. E invece la differenza come preparatore dei portieri tra Giuseppe Di Nucci e Giuseppe Pannozzo che comunque sono due ottimi preparatori dei portieri qual è puoi dircela? Sono entrambi preparatori dei portieri molto 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 bravi con cui mi sono trovato benissimo Giuseppe Di Nucci lo ringrazio perché negli ultimi anni che è stato la vis mi ha fatto fare una crescita esponenziale molto molto una grande crescita avevo anche compagni di reparto quali Giulio Caramani che e Luca Napolitano che mi hanno aiutato molto a crescere e stessa cosa quest'anno con Giuseppe Pannozzo che è anche lui un preparatore dei portieri eccezionale mi trovo molto bene diversi diverse tecniche di allenamento ma comunque la sostanza è sempre la stessa preparano molto bene entrambi e mi trovo benissimo anche con Giuseppe Pannozzo. Grazie mille Marco Grazie a te Carmine. Siamo con Massimiliano Fraioli con il quale chiudiamo l'ampio spazio meritato dedicato ai portieri del Lidl Pirata Sperlonga. Massimiliano per te la prima esperienza nel calcio a cinque per quanto riguarda ovviamente i campionati federali come ti stai trovando e come vedi questo campionato della tua squadra? Guarda buonasera per me è la prima esperienza visto che vengo dal calcio a undici e non è stato molto difficile dato il mio comportamento che è molto freddo quando sono sul campo quindi mi sono adeguato subito anche al calcio a cinque e sto entrando nei meccanismi. Sto entrando nei meccanismi degli allenamenti grazie al preparatore poi che mi sta facendo fare molte cose nuove diciamo. Bene questa tua grande freddezza questo tuo essere così preciso in campo senza concedere mai nulla alle emozioni lo abbiamo già visto quest'estate nel Fondi Summer Sport che è una delle più importanti anche per quanto riguarda il calcio a cinque di tutta la zona e la ritroviamo anche come dicevi tu in questa tua prima esperienza nell'elito il pirata è una qualità fondamentale credo per un portiere giusto? Assolutamente sì non mi sono mai trovato male penso di averlo dimostrato molto in campo durante quest'estate nel torneo. Sì esatto è stato per te un trampolino di lancio molto importante quel torneo che abbiamo menzionato prima proprio per avere questa opportunità in un campionato di Serie C2 in una società molto ambiziosa ti chiedo anche se magari non hai molta esperienza nel futsal però secondo te quale può essere l'obiettivo di questa squadra? Sicuramente impegnarci molto per arrivare in buone posizioni nella classifica. Ci sono per te i presupposti? Per me sì perché comunque c'è l'ambiente la società è ottima per me poi basta concentrarsi allenarsi andare fino in fondo e raggiungere l'obiettivo. Va bene grazie mille Massimiliano in bocca al lupo. Grazie.